e ci sono tre imperativi strategici che sono naturalmente lato offerta, quindi trovare una forte differenziazione attraverso innovazione e performance, poter garantire un supporto alla rete e un'espansione degli stessi canali distributivi che ripeto vanno anche al di là della tradizionale configurazione della rete bancaria e un forte impegno delle risorse umane. Valorizzo questo ultimo punto dicendo che in un'azienda di servizi alla fine la componente del capitale umano è quella che può veramente fare la differenza ed è su questo che noi stiamo fondando anche l'attività di crescita in termini di formazione, di sviluppo in termini di carriera e soprattutto di comportamenti. Nell'ambito di questi tre imperativi ci sono una serie di iniziative che già nel primo anno sono state lanciate, in particolare rinnovamento della gamma in soli 18 mesi, una gamma che ripeto significa una rivoluzione rispetto a quello che oggi è a disposizione della rete, ma soprattutto migliorare la qualità del servizio che diventa una delle componenti chiave nella strutturazione dell'offerta stessa. Migliorare la conoscenza dei clienti, rafforzare le attività di supporto distributivo attraverso i vari modelli di servizio, perché anche se parliamo di una rete, come dicevo prima, centrata sul modello del retail, in realtà i modelli di servizio che oggi sono presenti nella rete bancaria sono diversi, anche nell'ambito del retail ci sono modelli distinti tra il family, l'affluent e lo small business, c'è il private, c'è il corporate, quindi ognuno di questi richiede professionalità e ingredienti diversi che anche un fornitore di offerta e di servizi deve modulare attentamente per riuscire a non creare delle sovrapposizioni e a creare soprattutto un vantaggio sistematico per la rete. Quindi ne focalizziamo adesso alcuni in maniera spero sufficientemente rapida, siamo sicuramente partiti da un'analisi della clientela, della banca e della banca assicurazione, il primo grande riscontro che abbiamo avuto è che il cliente non percepisce una differenza tra i prodotti assicurativi e i prodotti bancari e questo è un grande dato di fatto da cui naturalmente su cui dobbiamo riflettere, direi forse anche come categoria, ma su cui dobbiamo lavorare perché riteniamo che ci siano delle componenti estremamente differenzianti che possano consentire anche una percezione diversa dell'offerta assicurativa all'interno di una rete bancaria. Quindi prima evidenza il cliente non lo percepisce. Seconda evidenza, quello a cui il cliente attribuisce valore, direi in generale nelle aziende di servizi, più in particolare nei servizi finanziari, è maggiormente orientato sulla qualità del servizio, un po' meno sull'offerta, molto sulla relazione e sulla rete, la professionalità che la rete può garantire, direi in maniera molto limitata sui connotati del marchio. In termini di offerta, come ho detto, abbiamo lavorato sull'innovazione, cito solo tre esempi. AXA MPS è stato allanciato il primo prodotto di tipo Variable Annuity, che è un prodotto che è una linea di business di punta negli Stati Uniti e che in Italia non era presente. Abbiamo cominciato grazie all'esperienza di AXA ed è stato naturalmente un primo successo, grande successo commerciale nel momento in cui è partita anche questa operazione. Abbiamo lanciato un prodotto a doppio motore che invece non era assolutamente innovativo per il mercato italiano, non esistevano dei casi, ma nessuno aveva mai creduto che potesse essere venduto attraverso una rete bancaria. Ebbene oggi AXA MPS, anche in questo settore dei cosiddetti multiramo, vale a dire dei prodotti che abbinano una componente a gestione separata ad un investimento in fondi unit, è diventato leader di mercato, è diventato leader assoluto, direi con oltre il 50% della raccolta in questa linea di business. E poi abbiamo lanciato un prodotto dedicato alle famiglie, più specificatamente alla linea di protezione, tenendo in conto naturalmente le specificità di una rete bancaria che necessita di estrema semplicità, di tempi estremamente ridotti e di una value proposition nitida da poter poi portare al cliente. Conoscendo la sua presentazione temo un po' per il tempo, vorrei sacrificare le parti finali che... Cercherò di correre. Mi dispiace ma... Sulla qualità del servizio, bene, posso saltare per esempio questa di slide, ma questa vorrei non saltarla perché in realtà noi sulla qualità del servizio stiamo lavorando in maniera estremamente strutturata ed è importante capire che oggi come riconosciamo che il cliente attribuisce un valore particolare al servizio che gli arriva, dobbiamo poi essere in grado di percorrere tutti i passaggi che ci consentono di comunicare in termini di qualità del servizio. E per noi arrivare a comunicare significa arrivare a definire innanzitutto degli standard di eccellenza che siano sistematicamente raggiunti dai processi interni della compagnia per fare in modo di arrivare a dire al cliente che non soltanto li raggiungiamo ma che siamo in grado di penalizzarci laddove non lo facessimo. Quindi questo è un aspetto fondamentale che, ripeto, per noi che lavoriamo in un settore in cui non c'è la tangibilità di un prodotto che sia comodo, che sia funzionale, che sia bello, che sia gustoso da poter apprezzare, è importante riuscire a generare credibilità sulla qualità del servizio che offriamo. In termini di supporto alla rete abbiamo fatto molto, come detto, per uscire anche dalla pura dimensione di, direi, fattore di prodotti, ma poter far crescere la rete in modo che li apprezzi adeguatamente. e, come dicevo, cercando di conciliare le attese di ciascuna porzione della rete con il proprio modello di servizio. Nel modello di servizio, ad esempio, private, c'è un'attenzione al cliente individuale, alla consulenza specifica e, direi, all'analisi dei bisogni dei clienti molto più forti per i clienti, per la rete family, indubbiamente la vendita è molto più industrializzata e le necessità sono molto più legate alla semplificazione e alla fruibilità dell'offerta. Come dicevo, abbiamo anche lavorato in termini di articolazione del modello distributivo, perché quello che può sembrare, direi, un processo replicabile in tanti ambiti, in realtà ci siamo accorti che necessita di articolazioni laddove la logica di offerta e i bisogni che sono alla base di questa offerta sono distinti. E quindi abbiamo ragionato, partendo da un modello, direi, più industriale, come può essere quello del bundling, fino ad un modello estremamente tailor made e customizzato, come può essere quello delle polizze legate alla linea aziende, piuttosto che agli enti. Quindi, come detto, noi abbiamo un obiettivo ambizioso, che è quello di poter diventare leader nel settore della banca assicurazione, ma di creare soprattutto un nuovo modello che abbia una maggiore latitudine in termini di offerta, una maggiore profondità in termini di professionalità e che poi riesca a superare quelle che sono le categorie tradizionali su cui poi siamo confrontati con gli altri operatori specificatamente assicurativi, perché il nostro primo confronto alla fine è la banca, visto che è nella banca che avviene la vendita e il contatto con il cliente, è con la banca soprattutto che noi ci confrontiamo per poter essere percepiti. Cosa abbiamo fatto in termini di comunicazione per rappresentare questa unione, ma al tempo stesso rappresentare anche un momento di rottura? Bene, abbiamo lavorato su una metafora, la metafora del matrimonio. Un po' rischioso di questi tempi con i divorzi.